Salve ragazzi, come state? Io sono Briller Oggi sono qui perché sono un ragazzo americano eppure faccio tutti i miei video in italiano Un risultato naturale di questa cosa è che gli italiani vorranno fare tante domande a me Perché rappresento l'America Quindi se qualsiasi italiano ha una domanda dell'America o per gli americani lo chiedono a me E quindi adesso ho raccolto tutte le domande frequenti che mi fate E sono qui per essere il vostro amico e rispondere alle domande più frequenti che un italiano ha per un americano Iniziamo con la prima domanda, una domanda molto popolare recentemente Brian, ma cosa pensi di Trump? Ragazzi, la mia risposta è la sempre risposta che ho sempre detto Io penso la stessa cosa che pensate voi Penso sia sfacciato, penso che abbia un comportamento da bambino E penso che non si merita la presidenza americana Abbiamo sopravvissuto per poco il primo anno della sua presidenza Possiamo spero sopravvivere tra altri anni ancora se non ci sono problemi nuovi con tipo Nord Corea Quindi dite incrociate ragazzi, dobbiamo sopravvivere ancora Ma sappiate che non sono un grande fan o tifoso di Mr. Donald Trump Però sì c'è, almeno sono in Giappone e non devo affrontare queste cose Andiamo alla seconda domanda Ma Brian, sei in America no? Sei povero o stai male? Ti lasciano morire e non ti salvano? Ragazzi capisco questa domanda perché per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria in America Abbiamo dei problemi che voi non avete in Italia Però vi posso assicurare che no, non ti lasciano morire Cioè fanno quello che devono fare e una volta che tutto è fatto Poi vedono se hai l'assicurazione e calcolano quanto dovrai pagare Se hai l'assicurazione dovrai pagare tanto Se non hai l'assicurazione dovrai pagare tantissimo Quindi sì, ti salvano ma dovrai pagare una cifra ragazzi Andiamo al numero 3 Brian, ma è vero che in America tutti hanno una pistola Ma veramente tutti ce l'hanno? Ancora capisco questa domanda Capisco da dove venite E la risposta semplice è no Probabilmente tipo 20% degli adulti maschi hanno una pistola Anzi forse anche meno Però ci sono tantissime ovviamente persone che non hanno una pistola Io incluso E non ho voglia di una pistola Non penso che sia necessario per difendermi o una roba del genere Però ragazzi gli americani amano le pistole Sto per fare un video sulle armi in America che uscirà tra poco Ma ragazzi in America non tutti hanno una pistola Volevo ridimensionare questo stereotipo degli americani Si amano le pistole probabilmente più di qualsiasi altro paese Però non tutti ce l'abbiano Numero 4 È vero che in America le porzioni di cibo sono enormi? La risposta è sì Se fai la peregone al Giappone Però se fai la peregone all'Italia Ragazzi su per giù siamo uguali Ho visto l'Italia Anche voi avete porzioni abbastanza grandi Penso che la differenza sia che in America queste porzioni sono non sane Mentre in Italia avete cibo molto più sano Per questo gli americani sono molto grassi E questo mi porta alla quinta domanda Brian ma che stato vieni dall'America? Vengo non da Florida Non da New York California Oppure Texas Ragazzi io vengo dal Colorado Lo stato migliore di tutti i 50 Stati Uniti Questo stato è la più bella per la natura E anche lo stato più sano Statisticamente meno obeso di tutti i 50 Stati Uniti Ragazzi mi avete visto? Non sono grasso Sono come un italiano Quindi ecco In Colorado siamo molto sani Mangiamo bene Abbiamo un bel outdoor lifestyle Siamo molto tipo innamorati della natura Sciare Montagne russe altissime Quindi andate a vedere Colorado Perché nessun turista va in Colorado Ragazzi vi giuro Tipo nessun turista ci va Quindi sono triste per questa cosa Ma andiamo a domanda numero 6 Brian È vero che nel college non studiate E fate sempre queste feste assurde? Come avete visto nel mio video sull'università Sì Facciamo queste feste assurde Ma non posso dire che non studiamo per niente Cioè ovviamente dobbiamo studiare A volte anche tanto Forse rispetto agli italiani studiamo di meno Però sì Tipo studiamo E ci sono queste feste Quindi tipo Work hard Play hard Wiz Khalifa Facciamo un sacco di lavoro Però ci divertiamo una cifra Anche a queste feste al college Quindi sì e no A questa domanda Domanda numero 7 Ma in America avete case fragilissime Fatte di legno? Sì e no ancora Tipo Casa mia Penso di sì Perché in Colorado Non abbiamo tipo Uragani O tornado O tipo Terremoto Quindi è un posto molto sicuro Naturalmente E la casa fatta di legno ci sta Perché è più facile E non so Forse tipo È economico O qualcosa Ma la casa comunque è bella Ed è sicura Quindi perché no Ma sì penso in altri posti dell'America Fanno tipo Case più duro Tipo Non so che materia Tipo Materia Tipo Stile Non so questi vocaboli Però avete capito Andiamo all'ottava domanda Perché in America potete guidare A 16 anni Ma non potete bere Fino a 21 anni? Beh perché in America Bisogna avere la macchina E la patente Prestissimo Perché non abbiamo una metro Non abbiamo autobus Trasporto pubblico Non c'è Quindi bisogna avere la macchina Ragazzi Per questo lo prendiamo così presto A 16 anni Per quanto riguarda bere Abbiamo problemi alcolici Penso tipo Molte persone bevono E sinceramente Non so la risposta a questa domanda Perché è così tardi Ma ovviamente Come in tutti i paesi Anche ragazzi Prima di 21 anni Bevono tanto Io a 21 anni Ho smesso di bere Perché in liceo Bevevo di più E adesso non bevo E ho quasi 25 anni Tipo la mia vita di bere è finita La nona domanda è Avete sempre la bandiera americana Nel giardino? La risposta è Non sempre Ma a volte sì Tipo mio papà Lo mette ogni tanto Ragazzi Non è una cosa tipo Patriotico Tipo Ah mi amo l'America È soltanto Una decorazione La bandiera americana Abbastanza carina Ma me lo metto nel giardino Una cosa del genere Non deve essere questa cosa Intesa come tipo Siamo l'America Ecco la bandiera ovunque Sì La bandiera americana Si trova spesso Ed è ovunque Ma non è una cosa Così tipo grave O importante Penso solo che Ci piace La bandiera americana E la decesima domanda è In America odiate i canadesi e i messicani? No ragazzi Non so da dove viene questa domanda Ma non odiamo i canadesi e i messicani Adoro i messicani e i canadesi Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se voi avete una domanda per me Lasciatemela Se ho il tempo posso rispondere A delle domande che mi lasciate È stato un piacere Ci vedremo Alla prossima Andate a seguirmi Alla prossima Piii